Sì, devo dirti che i meriti di Iachini sono indiscutibili e più si va avanti e più lo apprezziamo. Iachini ha avuto tantissime difficoltà all'inizio perché non dimenticate che il Palermo non aveva credito e non aveva gioco. Lui ha saputo piano piano ribaltare la situazione, prima prendendo atto della situazione e confrontandosi con le varie problematiche. Poi ha dato un'impostazione tattica alla squadra, soprattutto in fase di copertura, di cernea di centrocampo, di esperienze e di solidità. E poi ha fatto lievitare alcuni giocatori come Dibala, Vasquez, come Stefanovic, ma non solo loro perché tanti sono cresciuti nelle sue mani, dando al Palermo un'impostazione precisa. È un gioco incredibile. Questo è un Palermo che molti hanno sottovalutato, però sul piano dei numeri, sul piano delle statistiche, è addirittura largamente superiore rispetto a quello di Baldini e Guidolini, che pure segnò un'epoca. Ma quello era un Palermo sostenuto da un grandissimo entusiasmo, crescente dai 31 anni di assenza dalla Serie A. Questo invece è un Palermo che solo adesso sta prendendo un po' confidenza con l'entusiasmo e con il calore della gente. Ma i presupposti ci sono. Iachini ha rivitalizzato un parco giocatori. C'è anche la prospettiva che in Serie A il Palermo possa fare bene.